Oggi al palco e tua vetrina un grande musicista, Mirko Cristanelli. Ciao! Ciao! Dovete sapere che lui suona tantissimi strumenti. Ci dici quanti e quali sono, nell'ordine però di bravura. Quello che suoni meglio è il piano? Sì, esatto. E poi? Poi suono chitarra acustica, chitarra elettrica, chitarra classica, organo, basso acustico, basso elettrico, batteria, arpa celtica, charango, teen whistle e poi non mi ricordo più. Cos'è il charango? Il charango è uno strumento folkloristico boliviano. Hai suonato dal vivo, ho letto le tue note biografiche, con tantissimi musicisti importanti, devo dire. Qual è stato quello che ti ha colpito di più? Sicuramente Luca Urso, un grande chitarrista, il chitarrista di Bill Wilders, che mi ha insegnato moltissimo in ambito di cultura musicale, soprattutto nel jazz. Quindi tu mastichi anche jazz e hai avuto questa bellissima collaborazione. C'è addirittura un'altra notizia che devo dirvi. Lui ha fondato una band di musica folk. L'hai fondata tu o sei subentrato? È stata fondata dal mio chitarrista, ma praticamente l'abbiamo fondata tutti insieme nel momento in cui ci siamo fondati. E quanti elementi siete? Siamo sei persone. E diciamo, come si chiama? Dove possiamo ascoltarvi? Allora, intanto vi invito ad andare sulle nostre pagine Instagram, Facebook e YouTube a scrivere The Folding Chairs, quindi sedie pieghevoli. Iscrivetevi alla nostra pagina e seguiteci. Quindi ripeti il nome The Folding? The Folding Chairs. Le sedie pieghevoli. È indimenticabile come nome. E quindi andrò anch'io a sentire perché mi incuriosisce tutta questa tua poliedricità. Questa è pagina. Grazie.